Vogliamo portarvi in un mondo più libero, dove comunicare è più facile. Con Omnitel siete liberi di scegliere tra tanti abbonamenti GSM quello su misura per voi. Per sentirvi più vicini, per avere risposte 24 ore su 24 tutti i giorni, appoggiatevi a noi, parlate con noi, vi diamo ascolto. Grazie a tutti.